Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se è nuovi Lasciate il hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Questa mattina ho fatto un pochino di partite con gli altri ragazzi Non sono andate benissimo, abbiamo droppato parecchie coppe Specialmente io qua ho forse perso una cinquantina di coppe sicure Perché abbiamo provato a fare partite con, io con il Leon In queste modalità sia rapina che a raffagemme Che non sono adatte per questo tipo di personaggio Voglio provare comunque a farle perché voglio capire se sono ancora io che non so giocare E il mio livello è troppo basso e comunque mi sono trovato nelle partite con loro Che erano già maxati tutti i 10 Quindi anche un pochino di difficoltà Ne abbiamo vinte veramente poche insieme Giustamente perché un po' la difficoltà del personaggio è un po' il livello più basso Va bene ragazzi, voglio andare a provare queste rapine Vado con i random così non faccio troppare coppe agli altri Magari le droppo solo io qui insieme a voi Andiamo in gioco E Morduchino ci prova Una rapina con il bellissimo Leon Ok, non so se si può fare Dovrei trovarmi con persone più o meno al livello del mio personaggio Non ne sono sicuro, c'è un bo dall'altra parte Mi piacerebbe infastidire Sempre se non mi colpisce prima lui Ok Mi piacerebbe essere un po' più aggressive No E Morduchino non sa giocare bene ancora il Leon Quindi non sa essere ancora sufficientemente penso aggressivo Infatti ci stanno comunque attaccando con vantaggio loro sembrerebbe Aia e me massacra però il bo da vicino Non riesco ad avvicinarmi Non riesco neanche a difendere sinceramente Questa mappa forse non ha neanche Lo spazio sufficiente per fare sta cosa Allora questo lo ammazzamo subito Oh E ne abbiamo levato uno Intanto Non ci stanno facendo avvicinare Ma mi piacerebbe Avvicinarmi Attacco la cassaforte direttamente Ci proviamo Fastidiamo la cassaforte C'è anche un dynamite che mi ha mirato perfettamente L'ho provato ma non ci sono riuscito effettivamente a schivare i suoi colpi In maniera molto tattica Anche perché come vi ho detto Morduch ancora non sa usare bene questo personaggio Allora vorrei prendere questo bo Ma mi ha massacrato lui Benissimo Cominciamo male 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 Allora stanno rivenendo in avanti No Se sono riusciti a fermarli Stanno attaccando la cassaforte E non grazie a Morduchino sicuramente Ok Cerchiamo di Esagerare un po' Aia Eh no Ho preso Nulla Ho preso un pezzo di cassaforte Allora potrei anche provare ad attaccare Visto che no Non posso Perché c'è Questo bellissimo Stecca qua davanti Che rompe le scatole Che l'ho ucciso Non so con quale magia Allora io ci provo Ad attaccare Sinceramente Non posso Si che posso invece Oh Ce l'abbiamo fatta Miracolo Ok questi random mini sono rimasti con me Da una parte mi fa piacere Dall'altra non sono sicuro di quello che ci dormiamo di là Ho visto che comunque c'è un bombardino E c'è un dynamite Quindi Non è una situazione molto tranquilla Abbiamo un colt contro E vorrei un po' Essere più aggressivo Ma non posso Perché Non me lo permettono Sinceramente Aia No ho fatto No Regà Bombardino è Veramente un devasto Ok Intanto per fortuna C'ho la mia squadra Che Sta andando in avanti Fortunatamente Per me Eh però sono morto Allora Adesso ce l'ho l'invisibilità Quindi potrei anche Giocarmela molto Aggressive Da Cespuglio Ok Forse non dovevo attivarla qua Magari me la dovevo conservare E invece E invece Portuchino vai in avanti Ok la nostra squadra sta in attacco Quel Julian è andato a FK direttamente Ce l'hanno con me Ce l'hanno pure con me Guarda che schifosi Seconda partita vinta Che succede? Ok Ok C'è qualcosa che non va Due vinte No No Qualcosa che non quadra Va bene ci riproviamo Vediamo un po' se riusciamo Fa pure la terza Diventa veramente Tranerrima la cosa Oh 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 Aspetta Questo è un problema però Bombardaino Potrebbe essere un grande problema Eh Si chiama Dynamike Li mettono tutti e due in combo L'ho visto già prima Nell'altra partita Ok Quel bombardino Ci ha provato E ha ucciso Comunque Il nostro compagno Ok Io cerco di eliminare Bombardaino Bombardaino Dai no Io vado a dritto Cerco di attaccare Se possibile Magari Allora Eh Volevo tirare un po' di colpi Non ho tirati pochissimi Non ho fatto un cavolo di danno Loro con Il bombardino Mi hanno Devastato la base E non riusciamo ad andare in avanti Perché non ce lo permettono Se non stiamo attenti Ci devastano male Eh C'ha pure la bombetta La carica Non l'ho preso mai una volta Mai mai La prova ad andare in attacco Eh Ci ha visto Ok Aia Ok Ci siamo Siamo tutti qui Possiamo fare qualcosa Possiamo attaccare No vincono loro Eh Il bull Il bull fa la differenza Il bombardino con la super Dai Due vinte e una persa Non ci lamentiamo Non possiamo dire male Ok Come vi ripeto Leon Non è un personaggio Adatto a questa mappa Ma non è neanche adatto A questo tipologia Modalità di gioco Se non erro Ok Provo ad andare in attacco No Chi c'era qui Ah C'hanno un difensore Mi aspettavo proprio Il difensore lì pronto Ok Lo vorrei provare Aggressive È un Mr. Vatt Che non so che cosa è Mr. Vatt Chi è Però il nome Mo ricordo Non so perché Oh oh Cacchio Mi ha preso Eh no Mi ha preso Quella linea Io non mi posso spostare Troppo Chi mi prende E basta Sì ma non riuscite A prendere in due Un bro Che ce ne vuole De impegno Eh Ok Questa muore Allora Direi di fare Una cosa Bella tattica Eh Vaffanbeccolo Però Niente Ma Mi ha fatto Il predict De movimento Ah C'è questo Ok Era quasi morta Ma non grazie a me Di certo Ok Questo sta veni qua E ballam Ciao Ok Cerchiamo di fare Ah è morto Uh Bella per me Ciao Io c'è bro Dai E al pelo Mi ha preso Mi ha preso Al pelo Pensavo di stare Nel raggio Massimo Invece Mi ha preso Eh Bombardaino Dai no È un problema Dai Ho detto Bombardaino Poi no bro Che vero Ok Io cerco Di andare Un po Aggressivo E ho capito Ok Rinasce Nel momento Specifico Quando sto Arrivando io Questa è Cattiveria Ok Per fortuna Che il mio team Sta buttando giù Tutto Dai 0% Un'altra vinta Tre vinte e una persa Bono Qua tre vincente Non si cambia Si dice Per fortuna Loro stanno rimanendo Con me Quindi Sembra che le partite Vanno abbastanza Equilibrate Ok Stranamente Perché come vi ripeto Questo non è un personaggio Adatto No Mannaggia il bombardino Mi aveva messo le fiammette sotto Ok Io vado in attacco Sti cavoli No Il bull Non me l'ero Non me l'ero pensato Lì Effettivamente Ve lo dico Avevo proprio pensato Ok Abbiamo un piccolo difetto logistico Giustamente No No Sono un cretino Ma io pensavo che se fosse elevato da là Non è rimasto la fisso Porca Zozza La seconda volta Mi faccio fregare così Dal bull Il bull Il bull è mostallano Non c'è sta bull Ok Che gli dico È questo Ok Preso Il bull ha attaccato Bull ha attaccato Potrebbe aver vinto Già Si Il bull è così Ha vinto Non ci può fare niente Niente Non ci avevo più attacchi Quel bull Ci ha fatto un assalto Niente male Devo ammettere Ok Siamo pronti a riprovarci Penso forse Ultimo tentativo Raga Massimo un altro Bisogna vedere Dalla velocità Di questa partita Ok Loro stanno attaccando Io vado ad attaccare loro Ok Ciao Ti provo Ok Uno di loro è morto Uno dei nostri è morto La rosa ci riprova La rosa sta qua in difesa Mi fa passare Perfetto La rosa sta andando in attacco Il dynamica sta in difesa Noi ci proviamo ad attaccare Ok Loro stanno cercando di riattaccare tutti insieme Però intanto i miei due difendono Dai Io gli tiro qualche attacchino Non è malissimissimissimo la situazione No Sono cretinotto Mi sono castrato da so Non è vero Forse abbiamo un tantinello di vantaggio Quel tantinello di vantaggio Che potrebbe farci vincere Ok Quello lì non muore Perché c'ha cuore Ok Dai No mi sono steltato per sbaglio Cliccando random Dai Era vinta Non ci credo Ok L'ultima è stata sfortuna Dai L'ultima è stata proprio Dempelo Cioè C'è avuto proprio la fortuna De Alla grande Vediamo un po' Che riusciamo a combinare In questa partita Allora Vedo comunque Un bellissimo Una bellissima Shelly E un bombardino Che potrebbe essere preso Molto male Speramente Ok Un colpetto Io l'ho tirato Alla base Niente Ma ha chiappato uguale Cazuzza Eh ma fregato Oh Allora Il nostro Abaker bro Ha deciso di fare Il difensore perenne Che potrebbe essere Una buona cosa Questa Ok Eliminato No Scherzavo Ok Eh non mi farà mai andare avanti Quel bombardino Presumo E invece Non andiamo avanti Non ci frega niente Perché no Era la Shelly Non l'avevo vista Neanche entrava Nel cespuglio Forse quando mi sono allontanato Porca Zuzza Eh ma Ha chiappato Porca miseria Ma ha visto Ragazzi Uccidete Ok Hanno uscito La Shelly Per fortuna Ok Stiamo prendendo Qualche Botta di quelle serie Ok Questo non muore Questo non muore Ok è morto Uff No ha tirato alla super Eh qualche colpo Ci è arrivato Allora questo lo eliminiamo Ok Eh no Eh beh Volevo andare in avanti In attacco Ma non me l'hanno permesso Ok qualche attacco È partito E No Super sulla faccia Così è brutta Però eh A gold E va Eh niente ma Ma ammazza lui forse Lo sapete Sì ma ammazza lui Non riesco A Acchiapparlo in modo corretto Anche perché sto andando molto di auto aim Che sono scarso Come sapete Con questo personaggio In special modo Sono ancora abbastanza Pronto Allora io attacco Mi frega niente Ci provo Attaccamo tutto Ok Ah Lo fai Ok Ah ok Eliminato Dai che forse No 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 Difendete Difendete Cazzarola Niente Persa Dai che è persa Rega Non posso attaccare Un attacco Basta un attacco Non me lo fanno Fa Che fai Oh Ce l'abbiamo fatta Fatica Siamo riusciti a vincere Qualcuna Con molta fatica Non sono ancora Abbastanza pratico Con le on Perché comunque Lo sto utilizzando Da un paio di giorni E non a full time Ho fatto soltanto Sopravvivenze Quindi effettivamente È molto più semplice Salire di coppe Con le sopravvivenze Adesso Ho provato a fare Le rapine Ho provato anche A fare altre partite Con voi ragazzi Anche con mister Allaghi Anche con altri ragazzi Con felix Abbiamo fatto Un po' di tentativi Non ci siamo riusciti E c'è stato Un po' di drop Da un po' tutti E mi dispiace anche Di avervi fatto Droppare un po' di coppe Queste erano Soltanto partite Per vedere se era possibile Lasciatemi qua sotto I commenti E ditemi se Effettivamente Può essere utilizzato In alcune mappe O meno E cosa dovrei Migliorare Nel mio Tipo di gioco Con le on Arriviamo a 300 like Condividere il video Iscrivervi al canale Se no Lascia il hashtag Browstars Qua sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Nel prossimo video